FANTASMI SOCIALI I studenti che hanno lasciato i banchi nel 2012 di almeno 110.000 non si hanno notizie sul fronte formativo o professionale. E il costo sociale è altissimo, 32,6 miliardi di euro l'anno, non solo. I NIT, stando a un'indagine curata dall'Istituto Toniolo in collaborazione con Ipsos su un campione di 2350 giovani di età tra i 19 e i 29 anni, sono anche molto più infelici dei loro coetanei. Mentre i non NIT si dichiarano infatti abbastanza o molto felici in misura di 3 su 4, tra i NIT il valore precipita. Oltre 1 su 3 tra le donne e quasi 1 su 2 tra gli uomini si dichiara per nulla o poco soddisfatto.